buonasera a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova live stavolta non sbagliamo dal vostro draven ovviamente stasera partiamo con tema corretto dietro di me come vedete forse così no wait così si capisce cioè le division 2 il discorso è questo l'ho detto già più volte coloro che si abbonano fondamentalmente supportano in una mani allora metto le mani avanti perché non vorrei che passasse il messaggio sbagliato anche su questo mi ripeto spesso non è che per giocare con me devi essere abbonato assolutamente no però il discorso è chi si abbona comprai piuttosto che quindi il fatto che si abboni gratuitamente piuttosto che è un modo di supportarmi in maniera differente perché parliamoci chiaro per me l'abbonamento è qualcosa in più rispetto al semplice follow e credo sono convinto del fatto che chi si abbona per piacere chi lo fa per un mese un mese si e sei no insomma o magari ogni mese perché c'è anche gente che è da tre mesi abbonata credo che abbia necessità di avere qualcosa in più rispetto al semplice follow non è migliore di un semplice follower perché c'è gente che magari non si può abbonare i miei contenuti sono completamente gratuiti ragazzi quindi sia mai però è giusto che loro abbiano qualcosa in più rispetto al semplice follower passatemi il termine ragazzi quindi è giusto anche dedicare dei subday quindi delle giornate dove gioco esclusivamente con gli abbonati perché comunque hanno bisogno di qualcosa in più come ci saranno i giveaway e quant'altro insomma ecco questo questo è questa è l'idea fondamentalmente grazie ancora guys comunque perché è stato dall'inizio streaming fino ad ora per seguirmi sui division 2 ragazzi grazie lo apprezzo un botto ve lo riporterò grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti boom 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 è così grazie a tutti ah erano in due niente sad ah così easy push easy push così me lo stai dicendo così planto 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 signori signori sto plantando signori sto plantando coca veira qua dietro bravi ragazzuoli bravi easy push push così così ahhh c***o ha tenuto il corridoio a lungo pensavamo fosse ancora dentro le doccette ahia hai dato le spalle un operatore alleato rimasto mancano 15 secondi porca t***o l'ho missato di poco di così non potevo pusharlo prima perchè c'era quello nell'anito tutto il tempo di così poco l'ho missato di così poco cazzarola l'ho missati poco quanto hai di ratio? non me lo ricordo dopo lo controlliamo nel caso si può giocare con te? certo che si ma non adesso faccio delle streaming ad hoc o solo con gli abbonati non c***o per favore non mancano 10 secondi abbastanza criticabile questo vetro di mira perchè fondamentalmente non serve a nulla cioè tu hai una vision limitata tu vedi neanche un quarto della stanza del garage tu mi devi spiegare a quella bravo bravo gg te lo meriti gg altre soldi è stato giù est 3 oh 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 40 secondi se i nostri compagni non si muovono eh niente non potevo plantare c'era che aveva guarda era dietro di me era dietro di me non potevo plantare l'assentivo l'ho sentita madonna cosa gli ho fatto dai ok sta fuori raffa sta appeso al rampino in fondo è in fondo appeso al rampino raffa bello era proprio easy questa rampinato lì leva un botto comunque la trappolina di gridlock se ci passi sopra non la distruggi ti continua a fare danno ti fa 10 di danno avevo 41 di vita ne ho pestato due defuser qua fuori che è stata di b defuser andre rischiamo un botto così preso qua giacca alla posta buona preso doc no rook non sai dove è l'ultimo forse in bagno forse in bagno predict così sto male sto male è andato in damburi è sceso giù l'altro quello che ho detto di voi sta piazzando porca torma non è possibile no vabbè dai è per questo che ti ho scritto che il diamante non è meritato ha arrivato acqua all'una e mezzo di notte è arrivato perchè ovviamente per di gunfight devi maniare meritato giustissimo giustissimo ok ancora lì eh ancora lì coprimi dai bravo oh wall bank ho fatto quello in biraffa non so se ok 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 frost dall'altro lato bomba piccola entra la draffa vai eh doppia trappola doppia trappola che cosa non è esplosa questa buona ma non ho capito perchè non è esplosa sono entrato in prefire sulla doppia trappola posso capire la seconda ma l'altra non me l'ha distrutta ma vabbè valuti uno che merita il diamant o meno da un gunfight perso da una smirata su pistola all'ultimo su clan però tutto sommato ogni qualvolta faccio le giocate della madonna ai clutch nessuno dice nulla quindi è questo che mi lascia perplesso sai finestra finestra ok stanno copando il corrido io non mi vado a pescare quello in curatica di A curatica di A curatica di A eh bravo ho fatto bene con ciò cambio caricatore ok c'è asci in tamburi stanno andando fatto 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 ok ricarico non trovo il corrido io Raffa bambi corridoi dico sta sulle scale di A dietro ah c'è ancora uno del twitch Raffa un altro è entrato in A ok c'è non il corrido io BB eh c'è non credo sono sulle scale ah buona bb su è il corrido io BB c'è il corrido io BB c'è il corrido io BB c'è il corrido io Però di queste giocate Nessuno parla Nessuno parla della copertura del mio compagno Che usa Echo e io con Smoke Che faccio le giocate della vita per coprire Echo che usa Yokai Di questo non parla mai nessuno Fatemi il favore guys Per favore dai Fatevi un bagno di umiltà per favore Abbiate I testicoletti Di dire sto sparando Per favore Ok va bene puoi entrare Non c'è neanche Bandit quindi Dolla È uscito da Karaoke Bello Buona Mamma mia Sì no ma mi ricordo di te Sergio Mi ricordo il tuo commento di Youtube Tant'è che non me la sono presa Né in quel commento di Youtube Né tantomeno nel commento che mi hai dato prima Il mio commento del bagno In milità Bla 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 È in generale È in generale perché c'è la Questo mi ricollego al punto del Sembra che la gente non voglia sentire Non mi sono mai reputato un grandissimo giocatore Anzi Il mio commento era generico Perché mi ricollego involontariamente A esattamente quello che hai riportato Il commento risposto su Youtube Sia Sembra che la gente non voglia sentire Quando dico che non mi reputo un gran giocatore La gente si fissa sul fatto che magari tu non gli stai simpatico Allora Per partito preso Tu non sei buono a fare nulla Bisogna imparare che Dietro al semplice parere Si può cambiare opinione Io ho cambiato opinione su tante persone Sia sul web Ma anche di persona Cioè ho conosciuto le persone Ho cambiato idea Ma comunque Giusto per chiudere la parentesi Rivalisco Non me la sono affatto presa Anzi mi scuso se tutta la sei presa Nella mia risposta Ma Quindi raga Grazie mille per Intanto chi è stato dall'inizio alla fine O quasi Chi mi ha dato tantissimo supporto su The Division 2 È andata benissimo a live A livello Tutto i numeri Su The Division Grazie a chi si è subbato Chi si è abbonato stasera Tanta roba Grazie a chi ha followato Abbiamo fatto un numero di follower esagerato oggi Detto questo ragazzi Buonanotte Sono due di notte Quindi vi lascio andare Notte Ci vediamo domani Alla prossima Ciao